Tra le nuove filosofie di allenamento ci sono anche queste cose qua Roberto, di cosa si tratta? Si, si chiamano kettlebell, sono attrezzi per l'allenamento sia cardiovascolare che per l'ipertrofia muscolare, va benissimo ed è indicato a tutte le persone che non hanno patologie grosse a livello scheletrico e soprattutto chi ha intenzione di mettersi in forma per l'estate consumando un po' di calorie e lavorare per aumentare anche l'ipertrofia del muscolo e quindi avere articolazioni più forti e più salle. È un allenamento anche divertente, no? Si, è vario, non c'è mai una ripetitività, sono molti esercizi che si combinano tra di loro. Tutte queste fantastiche kettlebell, il nostro buongiorno mattina. Buongiorno mattina. Buongiorno mattina. Buongiorno mattina.